Sabato giochiamo contro Corus, delle ragazze molto giovani con un forte potenziale in attacco. Dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio Muro Difesa che stiamo preparando molto bene in settimana e portare a casa Tre Punti che è la nostra ultima partita in casa. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Grazie.